mi leggo a te salve porco dio ma smettete di spunarmi nel culo mio cane perfetto perché appena ti smuto ti piace proprio tanto mamma mia struccolo la macchina vai spona cadda anche fuori dai coglioni sto sparando ma in che senso guarda qua quante ilare questa scena hamburger riesco a uscire veloce 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 si è spanato è spanato com'è che in sto periodo stanno spammando su instagram tutti le foto della dadario ma che cazzo le so chiederglielo no perché ci sta dario è piacevole come hai visto capisco dimmi dimmi che dimmi che non è come farò burger così ti piace un po' il cazzo no gli piace la marmita no a burgi gli piace la marmita io voglio leggere carda ditemi che carda sta scrivendo da qualche parte si ha detto della della dadario carda alexandra dadario scusa carda io anche carda sa chi sia come non sai chi è alex vabbè aspetta che ti mando non mi possa siete un po' froci carda si burgi e marmittaro semplicemente abbiamo semplicemente chiesto non è che non è che possiamo conoscere tutte le persone sulla faccia della terra si ma la dadario porco schifo non è la foto in cui si vedono più le zin aspetta ce l'avevo prima in home su instagram quella ma che cos'hai ma che cos'hai però burgi una cosa allora hai detto che non guardi tanti film e quindi non sai chi era da dario perchè lei fa film in che ambito tu puoi conoscere la figa cioè serie tv modelle fotografia porno voglio capire un attimo in che contesto burgi conosce della figa oh assetto corsa non ha rinnovato il titolo del copyright per il 2021 registriamo il copyright di assetto corsa 2021 già nostro capisco si così e poi l'azienda che deve pagarci per poter usare il nome vuoi mettere come fare questo è business come fare soldi capisco dimmi che non è vero capisco di che non è vero è vero si no 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 burgi no no burgi è diventato raga burgi è diventato una pallina di quelle lì pazze quelle che rimbalza ovunque burgi è una macchina di gomma è saltato ovunque rimbalzato ovunque sta macchina qua è perché non so o devo testarla ma no perché quella lì è di per sé è la versione ignorante ma è solo potente non è bilanciata per un cazzo 1200 cavalli su una roba del genere non sono gestibili è la macchina da cazzone quello ma in pista fa schifo c'è troppa potenza per il telaio che ha avete capito voi possessori di che cos'ha burgi non ho visto che macchina va bene avete capito voi possessori di auto di burgi che state guardando questa live ecco Steve ha detto cosa siete siatene consapevoli non ho capito pensa che qualcuno nella sua chat abbia una Lamborghini Gallardo stage 3 superleggera 4 ma GG in caso eh anche se preferisco la Morsierago Morsierago penso sia a mani bassa la mia Lambo preferita sai che cosa ho capito Steve anche che io non solo sto stremmando sto anche registrando contemporaneamente vabbè ma allora sei stronzo si ah non c'è ancora lì 9 fiolini mi porto avanti col lavoro raga ho driftato nella 458 non si credo manco se ti vedo guarda la live guarda definiamo drift driftino piccolino guarda guarda la live guarda correggere una sbandata non è driftare però ne ho corrette 3 insieme 3 insieme ne ho corrette in curva dai ok ma sono correzione vai a vedere vai a vedere vai a vedere dammi una soddisfazione voi fate le curve ai 300 non riesco neanche a farle ai 40 però ai 300 manco in formula 1 manco in formula 1 una macchina manco ci arriva i 300 ma si se ti impegni ci credi tutto può accadere non ho motivazione il motore dai che ce la fai si infatti è così che si fa perché se già dici no però questa macchina non vale niente quando puoi motivare il tuo motore ma fra hai dei sentimenti cioè devi andargli anche incontro tu cioè non è che puoi dire puoi dire ah io sono un grandissimo pilota tu macchina fai schifo no gli dici sei un bravo vogliotto dammi una mano dai che ce la facciamo possiamo essere i migliori io confido in te sei tutti noi cioè dai sei l'anima di questa di questa squadra un shock dislike guarda no 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 non ti è toccato però ho preso un burger ah qua ecco vedi esatto visto effetto farfalla però dico cioè se tu calcoli con loro puoi cioè se gli dici vai sei il più forte vai che vinci lui si gasa un botto cioè uno space shuttle diventa bumblebee fisicamente potrebbe farlo io penso che fisicamente sì dobbiamo introdurre la fisica letteralmente se preferisci sì bumblebee letteralmente se volesse scandalizza uno space shuttle diventa uno space shuttle visto che una volta era un'auto poi è diventato una camaro se il pane avesse le gambe moriresti di fame va bene che hai detto se se il pane avesse le gambe ma oddio mi hai mai visto cacciare e poi non sono un grande amante del pane scusa ste mi piace e comunque calcola che io sono un carnivoro quindi la carne prima che me la mangiassi c'era le gambe tu veramente sei un nivoro ma ok non proprio non proprio se mangiassi solo carne probabilmente avresti 18 malattie diverse quindi non penso è una sfida domani vado a fare domani domani vado a fare il conto delle malattie allora vado già una salmonella così la butto lì perchè dipende no esploso tutto esploso tutto tantissimo esploso tutto tantissimo mi sentito a laggare questo mi sentite no esploso tutto tantissimo ah la gotta potrebbe venirti si ti sento benissimo non ti sentirò più una volta che avrò la gotta però perchè chi ti dice che avrò la gotta sinceramente ah si 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 adesso come adesso se non hai la patente fai ben poco guarda che molti lavori ti richiedono la patente lo fermano tre minorenni esatto esattamente no come tre minorenni due maggiorenni o minorenni no due minorenni o maggiorenni pur che non mi sembra maggiorenni eh boh ero già vabbè manca poco è piccolino di fare di svegliarti quando vai a dormire ti svegli e poi sei andato a dormire stannolta sono andato a dormire alle 6 quando? oggi? stannolta eh si stamattina quando hai detto mi hai scritto ci siamo scritti su instagram ah io mangiavo colazione io stavo andato a dormire ma che cazzo dici? si non davvero perché in questo caso mi arrivo a stare a dormire che mi andava i posti si alle 6 ero sul cesso in quel momento stavo facendo la cacca pre nanna la cacca pre nanna? si nanna stronzo in pratica io ho detto roba ci stava silenzioso what's up I'm from the dunk vibes discord easy ah ma non è neanche l'ultimo è il penultimo ce lo sai Ryan ce lo sai ok what's up come what's up aspetta I'm not speaking English please speak Italian e non lo so l'inglese lo sai tu l'inglese? si tu lo sai non saperlo più però ma c'è ancora carda? no carda non c'è più da un po' lol dude just come for a quick eye no come just come no 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 ma che dici no 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 cosa? no 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 aspetta no come 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 lo so leggere io non so leggere io mi dissocio nel dubbio mi dissocio si e allora come si legge così? came ah came capisco came capi capisco capisco insomma insomma sorry man questo lo so dire questo lo so dire questo lo so dire era molto italiano molto italiano questo story man boom è quittato malissimo cosa unig ain't good in hang aspetta age con aspetta guarda consenti guarda no 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 oh Lo t'hai matato per 600 secondi Ok ora traducimi l'intera frase Steve Eh ma è quello che avevo scritto Non l'hai letto scusami L'ho letto alla veloce Ho solo letto il niga Perché c'è un po' l'attenzione E niente Cacchio è proprio Tutti tu li trovi Porco dio È un server dove si mandano i meme sui bambini morti Cazzo di gente ti aspetti di venire Che cazzo Un saluto a buon vecchio Ryan Gigi Ryan E' ancora qua E' ancora qua Ma poi tu sti puoi spiccare con lui in inglese scusami Ma mi dissociano uno che dice niga Ma cosa? Tu lo dici 15 volte al giorno Io non dico mai niga Perché se posso evitare di dire niga Io evito di dire niga Capisco Capisco Coppa da qui la vecchina Sì Capisco Capisco